Abbiamo iniziato secondo me facendo un buon campionato, buon livello, buon livello di gioco tutti insieme, siamo partiti subito vincendo 3-1 a Modena, una bella partita, dopo quello non so perché ma siamo calati un po' e dobbiamo trovare un modo di riprendersi, di alzare di livello tutto, tutti i fondamentali. Grazie a tutti.